Grazie a tutti Grazie a tutti La stagione di Piacenza prosegue Adesso c'è la Final Four per qualificarsi per la Challenge Che a questo punto diventa il vostro obiettivo principale Lo è stato da un paio di mesi a questa parte Sì, adesso ci mancano due partite Andiamo là solo per vincere Perché non possiamo andare là per fare cose a metà C'è un obiettivo che secondo me è bello per chiudere una stagione difficile Grazie Grazie a tutti